Quando fate una performance sapete di quando inizio, non sapete di quando finisce, è quello che è un'attività senza rete, veramente senza rete. Dovete sforzarvi di comunicare il gruppo o singolarmente il più possibile il vostro essere intervento. Allora, in queste ore parliamo e suoniamo. Allora, in queste ore parliamo. Allora, in queste ore parliamo e suoniamo. 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 Allora, in queste ore parliamo. Allora, in queste ore parliamo e suoniamo. 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 Grazie. 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 E' vero che ho visto, grazie. Ho una fatica per ricordarci qui.